amici di motorsport.com allora ci siamo siamo al motorsport report dedicato alla moto gp dopo il gran premio di francia ovviamente la parola non mi rimane che darla a matteo nunes lo specialista del nostro network riguardo alle due ruote un'altra vittoria di mark marquez sì la terza vittoria in cinque gare di mark che in questo momento sembra veramente poter essere l'unico avversario di se stesso addirittura sì ma non lo non lo penso io lo pensano anche i suoi avversari forse è questa la cosa più preoccupante che la concorrenza pensa che se non sbaglia lui sia praticamente impossibile batterlo e non è facile battere qualcuno se sei tu il primo che pensa che sia così ecco a livello statistico è importante mettere in evidenza che si è conquistata la onda la trecentesima vittoria nella classe maggiore sì e bisogna sottolineare anche che di queste 300 ben 47 le ha portate già a casa mark e in questo weekend ha eguagliato un paio di statistiche interessanti perché a 47 vittorie ha raggiunto orge lorenzo nella top class e a 55 pole position ha raggiunto valentino rossi quindi diciamo ha raggiunto quelli che erano fino ad oggi due più titolati nella classe oltre a lui quindi tanta roba l'uomo della provvidenza ha fatto gara a sé ha aspettato un attimino di capire che cosa succedeva ha fatto sfogare un po miller e poi dopo quando ha rotto gli indugi se n'è andato sì lui stesso ha spiegato di aver trovato un modo per cambiare il suo stile lui ha sempre detto che aveva bisogno di avere gli altri intorno per rendere al meglio per non distrarsi per rimanere concentrato invece quest'anno dice che lo step grosso è stato che ha trovato la forza che gli mancava per riuscire a essere veloce anche quando gira da solo e purtroppo ne sta un po risentendo lo spettacolo perché le gare durano una decina di giri poi lui saluta tutti quanti e dopo magari dietro assistiamo anche a una bella lotta per il secondo posto ma per la vittoria non c'è molta storia quindi anche se dovizioso è solo 8 punti da marquez è un mondiale che ha già preso una linea secondo te sembrerebbe nel senso che tutti si aspettavano una ducati molto competitiva le man e così è stato perché le desmo 16 hanno fatto seconda terza e quarta quindi probabilmente nel complesso è realmente era realmente la moto più competitiva in francia perché le altre onde invece sono disperse però marquez come ha detto dovizioso facendo una bella battuta dice se non ci fosse marchio avrei vinto due mondiali però marce quindi quello che abbiamo in mano adesso non ci basta per batterlo bisogna fare qualcosa in più ecco proviamo ad analizzare meglio la situazione educati perché in realtà nel dopo gara alla virgolette soddisfazione dei due piloti in particolare petrucci che è riuscito a salire sul podio e quindi togliersi una bella soddisfazione dopo una battaglia importante con andrea dovizioso si è visto una faccia buia di dall'inia che invece ha accettato il secondo terzo e quarto posto però anche messo in evidenza che bisogna fare di più sì gigi è stato un po amaro nel suo commento perché ha detto sì sicuramente è un grande risultato di squadra perché siamo subito lì a ridosso però il secondo posto non serve a nessuno è una frase abbastanza tosta perché comunque lui quest'anno lo ha detto molto chiaramente l'obiettivo è provare a vincere il mondiale e sa che sulle piste sulla carta favorevoli bisogna andare a batterlo marquez se marquez comincia a vincere anche dove non te lo aspetteresti inizia ad essere un bel problema e in questo senso può essere una bella cartina torna solo il Mugello dove tutti ci aspettiamo una ducati super e dove mark di contro non va praticamente mai sul podio e forse una delle poche piste al mondo dove fa fatica se sarà competitivo anche lì batterlo quest'anno sarà veramente dura ecco ma quella frase di dall'inia dimostra un qualche cosa dentro la squadra di borgo panigale come se dentro i tecnici considerassero la moto ampiamente competitiva per battere anche marquez e invece poi i piloti non sono adeguati all'esigenza tu come la vedi questo è un po complicato da capire nel senso che adesso la ducati sembra effettivamente essere diventata una moto lo metto tra virgolette alla portata di tutti nel senso che certo non è che parliamo degli ultimi arrivati è con petrucci e miller però riescono ad essere competitivi anche loro in questa fase forse sta effettivamente mancando un po quel qualcosa in più che aveva fatto vedere andrà dovizioso negli ultimi due anni e ti motivo anche il perché ovviamente petrucci a un certo punto nel suo review della corsa ha raccontato che ha fatto un paio di lunghi ed era finito sesto e piuttosto facilmente è arrivato alla scia di dovizioso prima di iniziare la bella battaglia anche spettacolare con lui segno che qualcosa da spingere c'era abbiamo visto miller sparare forse esageratamente un passo elevato nella prima parte di gara quando era in testa poi forse si è mangiato troppo in fretta le gomme ed è un po rientrato nella fase dell'ultimo della comitiva di borgo panigale però come dobbiamo leggere appunto questa questa fase perché forse è mancato un po dovizioso ma guarda sul discorso che facevi lo stesso jack dopo la gara ha detto quando ho visto che è arrivato dove io l'ho fatto passare non perché lui è l'uomo di punta ma perché davo per scontato che avesse più ritmo di me invece mi sono ritrovato dietro e lui andava più piano di me io potevo andare più forte di come stava andando dove e lo stesso dove dopo la gara ha ammesso che probabilmente il secondo posto era oltre il valore un risultato oltre il valore che lui aveva in questo weekend non lo so forse può anche essere che c'è sapere vedere che c'è tutto un sistema che lavora per te e non avere nella nell'altro lato del box invece lo lo stimolo di sapere che le stai suonando a un tre volte campione del mondo forse può un po pesare in quello che sta facendo andrea adesso è una buona analisi vedremo cosa porterà se avrà delle scorie al Mugello oppure assolutamente no come ci auguriamo e allarghiamo l'analisi di questa gara perché c'era anche un valentino che a sprazzi ha provato a inserirsi nella committiva di testa e ci ha provato più volte quindi cercando di trarre da questa Yamaha non trascendentale tutto quello che c'è dentro allora intanto per valentino bisogna dire chapeau per sabato perché è stato in grande difficoltà tutto venerdì e tutto sabato e sabato ha tirato fuori un altro jolly dei suoi perché quando la pista era in condizioni critiche è stato l'unico che in cui uno ha azzardato di andare dentro subito con le slick si è guadagnato il passaggio alla q2 e poi è andato a mettere la sua moto in seconda fila facendo un'ottima qualifica in gara è partito costruendo da lì è rimasto sempre attaccato al trenino dei migliori ma non è mai riuscito ad avere la zampata per andare ad attaccare le ducati ecco lui ha parlato di una mancanza di potenza perché come telaio sembra che la Yamaha abbia trovato un buon equilibrio sì lui ha parlato soprattutto di potenza e di accelerazione quindi dice è praticamente impossibile riuscire a sorpassare le ducati e le onda per noi perché dice ci manca velocità di punta quando arriviamo in fondo al rettilineo e si parla di una decina di chilometri tanta roba sì in più tutto nasce anche perché la loro moto è più lenta nella fase di uscita di curva e quindi comunque tu ti ritrovi nella situazione in cui hai un passo simile perché arrivato attaccato alle tre ducati però non riesci così non riesci mai ad avere lo spiraglio per sorpassarle ed è un bel problema soprattutto avendo motori contingentati per cui non ci si può mettere mano se non sull'elettronica esattamente la cosa positiva che però ha detto valentino domenica dopo la gara è che dice che vede una certa progettualità nel lavoro che sta facendo la Yamaha in questo momento nel senso che stanno già parlando della moto 2020 del motore 2020 di quali possono essere gli interventi da fare l'anno prossimo per cercare di risolvere questi problemi cosa che dice invece negli ultimi due anni è stata molto più lenta e quindi quello va già inteso come un passo avanti importante per la Yamaha quindi la nuova direzione tecnica della Yamaha dovrebbe portare a un cambiamento di atteggiamento rispetto al recentissimo sembra proprio di sì insomma speriamo che possa portare i suoi frutti poi parlando sempre di Yamaha bisogna dire dei soliti disastri che combina Vignales anche però perché ha fatto un weekend in cui è stato praticamente sempre il più veloce fino a sabato mattina e sembrava l'unico in grado di tenere testa a Marquez e poi in qualifica ha fatto undicesimo a due secondi dalla pole position inspiegabilmente sul bagnato e in gara la sua solita brutta partenza si è ritrovato quattordicesimo è stato centrato incolpevolmente da Pecco Bagnaia è vero però non devi essere lì se hai il passo per lottare per la vittoria un campione psicolabile molto psicolabile permettetemi il paragone un orge Lorenzo al quadrato forse però non scherziamo mica poco qua è Matteo allora approfondiamo ancora perché dopo diciamo le minacce che la KTM ha fatto a Zarco sembra che questo bau bau ha messo paura a tutti quanti e Spargarò è riuscito a portare la moto finalmente in una posizione onorevole sì molto più che onorevole perché comunque ha concluso la gara a meno di sei secondi da Marquez e a tre secondi e spiccioli dal podio aveva già fatto un podio lui a Valencia l'anno scorso però sotto il diluvio questo è un risultato vero concreto fatto sull'asciutto girando forte 27 giri e pare che diciamolo un asciutto un po particolare nel senso che aveva piovuto c'era un asfalto che andava man mano asciugandosi tant'è che tutti per la prima volta sono partiti con mescole morbide morbide praticamente tutti quanti sì è vero però è anche vero che Paul è stato nella top 10 tutto il weekend ha sbagliato solo la qualifica perché è caduto in Q2 prima di riuscire a fare un tempo ma in tutti i turni era stato sempre nei primi dieci la KTM gli ha portato un nuovo forcellone in carbonio e una nuova configurazione del motore e lui ha spiegato che si tratta di componenti che permettono di sfruttare al meglio i punti forti della RC16 che tra le altre cose si sposano molto bene con i punti forti della sua guida e quindi gli permettono di sfruttare al meglio il potenziale della moto cosa che invece non riesce a fare Zarco perché il suo punto di forza è la velocità di percorrenza in curva che invece è esattamente il punto debole della moto e infatti Yon ha chiuso oltre 26 secondi indietro rispetto a Paul e in una gara di 27 giri la matematica non è un'opinione si la notizia importante che c'è un marchio che comincia ad avvicinarsi comincia a sentire il gusto di essere parte della moto gpi andiamo ad allargare ancora perché c'è un tema sicuramente molto interessante è un gesto umano che vale la pena di essere messo in evidenza e raccontalo sì venerdì purtroppo c'è stata la morte di un commissario veramente sfortunato perché è stato colpito da un attacco cardiaco mentre era in postazione è stato soccorso prontamente ma non c'è stato niente da fare ieri subito dopo la gara è stata mostrata questa immagine dei commissari di alcuni commissari che avevano in mano un casco di Alex Rins e una volta tornato ai box Rins ha spiegato che lo ha portato nella postazione dove lavorava questo commissario apposta perché venga donato alla famiglia come gesto perché dice che i commissari sono comunque persone che si danno tantissimo da fare per la sicurezza dei piloti e non hanno secondo lui mai il giusto riconoscimento e quindi ha fatto questo bellissimo gesto anche alla fine di una gara che per lui non era stata sicuramente positiva perché per un elizza per il mondiale fare decimo dopo essere partito diciannovesimo sarà stato anche abbastanza arrabbiato però ha trovato la forza di fare un gesto veramente bello ecco nella gara anzi prima della partenza della gara abbiamo visto anche un fatto particolare che si sono inzucati chi e che cosa è successo sono caduti sia Abram che scusate Mir ha la prima chicane nel giro di ricognizione è possibile prendersi dentro con le moto nel giro di ricognizione ma in realtà non si sono neanche presi dentro non è neanche chiaro bene chi dei due sia caduto prima perché sembra veramente un balletto di nuoto sincronizzato sono andati tutti e due giù in terra insieme e poi litigando nella via di fuga e perdendo tempo a litigare quando invece avrebbero dovuto tornare subito ai box di corsa per partire con la seconda moto cosa che gli era consentita lo hanno fatto tutti e due a piedi anziché salire sui motorini che ci sono normalmente sì ma oltre a quello veramente hanno perso tantissimo tempo al punto che Abram quando poi è partito si è visto pure sventolare la bandiera nera perché è uscito dai box quando ormai Marquez che era in testa aveva completato il primo giro il regolamento dice che tu puoi tornare prendere la seconda moto a patto che lo fai prima che il primo abbia concluso il primo giro della gara doppiato prima di cominciare la corsa non è niente affatto male Matteo questa è veramente curiosa va bene siamo arrivati alla conclusione di questo motosport report direi che diamo l'appuntamento per la formula 1 a domenica prossima quando ci sarà il campremio di monte carlo di monaco per essere giusti e vedremo la ferrari cosa in grado di fare con una mercedes che si è dichiarata pronta a vincere anche nel principato con un max verstappen prontissimo a mettersi in mezzo come zanzara e poi fra 15 giorni andrai al mugello per raccontarci quello che succederà del gran premio d'italia sì insomma speriamo che possa essere per una volta una domenica favorevole agli italiani e non sempre al 93 dai ok ciao a tutti